Mi chiamo Fahim, ho 22 anni e anche se mi vedete un po' negro, in realtà sono italiano. Diciamo più una via de mezzo, tipo Cappuccino, 50% Bangla, 50% Italia e 100% Torpigna. Ho una specie di lavoro, una famiglia abbastanza normale, degli amici, manca solo una cosa. Esatto, proprio quella. Ieri ho visto una tipa sul 105 che ti dico mamma mia. A te piacciono tutte. A te no. A me italiani non piacciono. In fronte si fidano, ecco perché. È vero che sto di bocca a buona e mi piacciono tutte. Questa fischella è proprio, cioè. Prima lavoro, poi mori, poi figli. Mi pare pure arrivato il momento di uscire dai schemi, no? Bisogna conoscere cose nuove. Tipo le ragazze, no? Ma che te sei riuscito? Mi ha battezzato. Ma tuo padre non ci dice niente con di milla? Perché sei ragazzo o perché sei nero? Beh, tutte e due. Beh, mica sei il primo. Eh no, certo, chiaro. Perché sei un problema. Te estikoppo. Dopo le ragazzo.